Da ieri 30 nuovi agenti della Polizia Municipale di Pescara sono in servizio a tempo determinato, lo saranno fino a fine anno, una boccata di ossigeno comandante per la carenza ormai cronica di organico della Polizia Municipale di Pescara. Sì, ci voleva, è stato un iter lungo e complesso, avevamo fatto richiesta già da febbraio, dopodiché per quelle che sono situazioni di carattere burocratico non abbiamo potuto fruire di questo contingente durante l'estate. Nel frattempo abbiamo avuto tante nuove mancanze rispetto all'anno scorso di questi tempi, agiamo con un organico ridotto di 22 unità tra pensionamenti, malattie e mobilità intersettoriali, per cui questi nuovi 30 assunti, che ovviamente saranno tutti sul lavoro esterno, tutti quindi come maggiore riferimento della cittadinanza, sono una boccata d'ossigeno e che probabilmente ci permetterà anche di ampliare qualche turno, salvo verificare le esigenze dell'amministrazione, e che ci permetterà di intervenire con maggiore prontezza su una pluralità di situazioni. Il concorso è già in essere, lo so perché sono il presidente della Commissione, quindi la fase preselettiva è stata già fatta nel mese di maggio, il 3 maggio, quindi ci sono 107 candidati idoni alla preselezione. Adesso spero con la Commissione nel mese di ottobre di poter riniziare l'iter e di porre in essere quelle che sono le due prove scritte nei confronti di quelli che sono anche qui tanti candidati che hanno meritato di essere alle prove scritte.